un puttiferio in casa roma un puttiferio le ultime notizie nel giro di un'ora veramente chi non supera le visite mediche chi comunque alla fine nonostante tutto la roma che sono supera le visite mediche ne prende un altro stesso ruolo dalla juventus sia che la roma fa anche uno scambio clamoroso dove c'è chi ci guadagna e c'è chi ci perde andiamo a parlarne tutto qua in un unico video perché domani poi c'è anche il campionato quindi è meglio raggruppare la questione ma ragazzi la roma per un motivo o per un'altra per un altro è scatenata in questo in queste ore danzo pagato 25 milioni difensore di centra di zolare fortissimo è non supera le visite mediche non le supera quindi il giocatore se ne tornerà in francia e la roma sta virando su con e con e quello di del glabac e vabbè una notizia l'abbiamo accantonata sfuma un difensore centrale con e sarebbe il titolare se la roma lo prendesse lo prendesse ma nel frattempo la roma prende giallo dalla juventus sky sport prestito con diritto di schia di riscatto a 9 milioni di euro più uno di bonus quindi un'operazione totale di 10 milioni di euro per per giallo alla roma molto bene per noi della juve che ci abbiamo uno spazio forse a parte da anche arthur a napoli visto che è sfumato gilmour perché si è fatto male o rilei e sarà benissimo che la juventus riesce ad arrivare a arthur e giallo liberandosi al momento solamente dei prestiti potrebbe rilanciare su sancio che al momento è una trattativa un po ferma e poi c'è lo scambio pazzo lo scambio pazzo ragazzi sì lo scambio pazzo che è l'argomento principale di questo video parleremo di milan e parleremo di roma ovvero sale makers del milan alla roma e tami abra della roma al milan chi ci guadagna è un prestito secco da quello che ho capito poi i giocatori torneranno entrambi nella alla base delle proprie squadre a fine anno secondo romano però c'è anche un conguaglione economico perché se perché se sale makers su transfer market no viene valutato una cifra che sta esattamente non mi ricorda quanto adesso vado a controllarci tammi abra comunque la parola dall'altra parte viene valutato un'altra cifra allora sale makers viene valutato esattamente 12 milioni di euro secondo secondo transfer market diciamo mentre invece mentre invece tammi abram viene valutato 30 milioni di euro c'è roba roba fuori dal comune c'è roba ovviamente fuori dal comune che non stanno in cielo in terra secondo me ma chi ci guadagna diciamo tra le due squadre secondo me ragazzi col fatto che poi il milan deve dare anche un conguaglio economico alla roma si parla dei 6 e 10 milioni di conguaglio ma è ovvio che ci guadagna la roma ma io mi domando il milan cosa sta facendo cioè io capisco che sale makers non serva al milan perché poi alla fine il milan è pieno di esterni no pensiamo a ciuqueze pensiamo magari a caffor che lo può fare pensiamo a pulisic pensiamo a leao tutto quello che volete tutto quello che volete ripeto ma la stagione che ha fatto sale makers al bologna valorizzato apposta appunto dal nostro de gomotta per me non era da buttare cioè non era da buttare tu vai più a metà mi abram che è rotto praticamente da da un anno a questa parte e da quando è tornato è un giocatore irriconoscibile poi c'è lo vè prendere per chiedere fare il vice di morata io amo ad oggi ad oggi non trovo uno jovic così tanto inferiore a tami abram perché dato da mia brava gli al mina per fare il vice non fa il titolare anzi al momento fa il titolare perché morata è rotto quindi giocherà proprio lui tami abram è un paura vedendo cosa ha fatto con la roma però ripeto quando era morata tami abram sarà un panchinaro sarà un secondo e tanto vai non era meno tenersi jovic che comunque ha dimostrato che da subentrato i suoi golletti li fa i suoi golletti li fa e ripeto per me invece la roma fa un affare fa un affare perché perché sulla sinistra c'è dalieschi che è abbastanza inguardabile e poi c'è il sharawi che è sparito dei rossi nei primi due partiti il sharawi l'ha fatto giocare pochissimo quindi è un chiaro segnale che il sharawi è un po' mezzo fuori dal progetto quindi praticamente se a destra c'è sulle se in attacco c'è i dobbi se giro le punte c'è i libala a sinistra lì bello bello un bel alexis alec mecker ce lo vedo bene ce lo vedo molto bene a roma e quindi per me l'affare lo fa la roma sia a livello di giocatore perché se ne carese sta bene e in salute fisicamente ma anche mentalmente perché vengono l'azione che ha fatto a bologna sa ne carese in fiducia mentre al milan arriva uno che al momento un pacco è un peso e lo devi anche pagare perché c'è anche un conguaglio perché due cartellini hanno differenza io non so non so ancora come l'età mia abram possa fare i 30 milioni secondo transfer market però c'è un conguaglio c'è un conguaglio perché se sarebbe casse comunque c'è un cuore dai 6 e 10 milioni quindi significa che comunque sale mecker si viene valutato 16 o viene valutato comunque 15 abram viene valutato dai 21 ai 25 c'è un conguaglio economico dai 16 milioni quindi ripeto l'affare lo fa lo fa la roma doveva fare a roma ragazzi poi non so se o magari poi da mia abram esplode al milan attenzione e io qua poi mi rimangerò quello che ho detto ma sicuramente sicuramente ad oggi a primo impatto secondo me l'affare lo fa la roma perché comunque sale mecker si gli serve di più ed sta bene ed è in fiducia quindi può dare tanto la roma tamì abram serve al milan come vice morata non lo so c'è il jovic siamo sicuri che tamì abram sia migliore di jovic ad oggi secondo me no secondo me no quindi è un po' una scelta rivedibile per me questa cosa del milan scelta astuta e molto intelligente invece per quanto riguarda la roma che si fa anche pagare poi per carità giocatori di giocatori torneranno alle proprie basi ma intanto tu quello sfiduciato quello rotto quello che non tocca al campo quasi da un anno lo dai alla squadra avversaria quello buono che è stato valorizzato da gomotta al bologna lo prendi sulla porti squadra e in più tu grazie a quello marcio tra virgolette ci fai anche dei soldi ragazzi chapeau chapeau e invece incompetenza secondo me da parte dei giocatori dirigenti del milan in questo caso qua io sono il fossi tifoso milanista sarei incazzato nero io per questa operazione qua sarei incazzato nero e non poco tifoso romanista posso capire che sia deluso per danzo perché sembrava titolare perfetto poi alla fine non supera le visite mediche già lo va lì non per fare il titolare ragazzi già lo va alla roma per secondo me essere diciamo chiamati in causa nelle rotazioni quando ci sono andate partite attaccate allora lì già loro per far giocare anche già lo comunque la juve l'ha preso per fare un disperto all'inter ma poi non ha mai visto il campo sembra fuori forma viene anche da un crociato quindi insomma lo prende la roma per fargli fare le rotazioni non è un titolare gioco il titolare la roma lo dovrà trovare l'ultimo gioco di mercato così di punta e bianco perché sarò danzo quei soldi di danzo che non alla fine siccome è saltato ti tornano indietro e io direi che penso che la roma punta su con e e credo che riesca a prenderlo poi stiamo a vedere come come si evolverà la situazione a giallo auguro il meglio mi spiace un po' la giuventino come è stata trattata la questione di giallo questa devo dire perché già lo abbiamo preso e poi alla fine già ma trovia però sono scelte e accettiamo queste scelte vediamo un po' se poi a fine anno ci tornerà indietro o la roma lo riscatterà se lo riscatterà significa perché ha fatto molto bene se no a fine anno solito vedremo nella rosa della juventus e qui ragazzi secondo il mio pensiero per quanto riguarda lo scambio cammini abran sale makers soprattutto quello poi vi ho detto già lo è anche danzo dietro la mia su queste operazioni se vi è piaciuto lasciate un bel like commentate e iscrivetevi al canale se vi fa piacere ragazzi qui abbiamo anche tutto mi raccomando bella